Questo programma vi è offerto da Cicli Olimpia, Bikes Since 1893. Grazie per la visione! Amici e amiche della mountain bike, ben ritrovati anche questa settimana ad MTB Gran Fondo. Immagini che vi arrivano dalla provincia di Vicenza, dalla zona collinare Vicentina, Selva di Trissino è il teatro di questa settima edizione della Gnocco Bike. Gara cross country a circuito di 5,5 km, seconda tappa del trofeo d'autunno 2013. Un grande appuntamento che ha richiamato in terra Vicentina oltre 300 biker, 330 per la precisione, invitati non solo a cimentarsi in questa gara, ben organizzata in quella di Selva di Trissino dal team bike Castelgomberto guidato da Armando De Franceschi. Ma anche per, l'avete visto nelle nostre immagini, il caratteristico prodotto di queste zone, allora il prezioso tubero la patata della zona di Trissino e la produzione artigianale della prelibatezza che sono appunto gli gnocchi che sono stati poi serviti anche agli atleti e alle atlete partecipanti a questa competizione cross country. A seconda delle diverse categorie i biker e le biker stanno prendendo posto, vedete anche le maglie di leader assegnate già dopo la prima tappa del trofeo d'autunno 2013 che si è corsa a motta di livenza. Stiamo vedendo ora rapidamente in rassegna con appunto la maglia gialla di Nicolo Zoppas che guida la classifica degli junior e via via tutti gli altri che si stanno preparando allo start. Griglia Open dove vediamo Nicola D'Alto della cicli Olimpia, il suo compagno di colori è Andrea Deitosse, di fronte a lui Marcello Pavarin, ex professionista del ciclismo su strada da qualche anno in mountain bike. Nicolo Ferrazzo molto concentrato prima della partenza, atleta del team Rudy Project pedali di marca, eccoli che allora viene dato lo start alla categoria Open che come da regolamento comprende gli atleti elite, under 23 e junior. Per elite e under 23 4 giri del percorso, per gli junior i ragazzi 17-18 anni 3 giri via via ora a seguire sono partiti in questo momento i master elite fascia 19-29, via via tutti gli amatori. Master 1, età 30-34 anni, capitanati da Alessandro Falcomer, maglia gialla del circuito, poi master 2 scattano in questo momento, è assente la maglia gialla di Mauro Simeon, mentre ora è il momento dei master 3, il leader è Luca Kogler, lo vedete col numero 116, ma attenzione all'esperto Antonio Tasca con la divisa turchese del team Bike Pro Action, una vecchia volpe dalla grande esperienza, ex campione anche europeo di specialità. Sono partiti anche i master 4, ora via i master 5, il leader di classifica è Giuseppe Dal Grande della cycling team Friuli, e poi l'ultima partenza riservata alle categorie amatoriali è quella dei master 6, gli over 55, il cui leader di categoria è Paolo Vanzella della ciclisti Eurovelo. Mentre a seguire ci sono le donne, capitanate dall'atleta di casa con il numero 241, la vedete scatta per prima, Jessica Pellizzaro del team 4S Racing e poi la maglia giallonera della leader di classifica Alessandra Teso che ha vinto la precedente tappa. Andiamo però in corsa subito nella gara degli elite seguendo Niccolò Ferrazzo che tira il gruppo appunto di questa categoria, poi ecco a seguire, avete visto una leggera scivolata di Marcello Pavarin che poi riprende subito, e a seguire l'Emiliano Mattiasetti, under 23, un po' più prudente Nicola D'Alto, che prende confidenza con il bellissimo tracciato di Selva di Trissino, molto avvincente soprattutto per la guida. Simone Segat della Torpado è il primo degli junior, vedete molto determinato, poi ancora il bravo under 23 Simone Piccoli, leader della sua categoria per il Bike Tribe Salgareda. Intanto Andrea Deitos tra gli elite dell'Olimpia resta in sella, mentre in questa insidiosa discesa c'è chi decide di andare a piedi. Non è davvero un passaggio facile questo. Potete osservare da questa ripresa ravvicinata, Ivan Zulian per il team Bike Pro Action, leader della classifica in questo momento della gara tra gli Elite Master. Ancora con le nostre immagini, invece ora è passato sempre per questa categoria, Matteo Marcon con la maglia di leader del trofeo d'autunno categoria Elite Master. Molta prudenza, vedete nelle retrovie si scelgono tecniche diverse per calarsi in questa discesa con radici e anche con curva finale a gomito, davvero selettiva. Il Master 3 Antonio Tascamet a frutto la sua lunga esperienza e rimane in sella alle sue spalle, invece usa una tecnica diversa. Il leader della classifica, leader provvisorio Luca Kogler della FPT, stessa categoria M3. Vediamo la gara donna, allora Jessica Pellizzaro causa rallentamenti, anche lei decide di scendere nonostante questo percorso potrebbe farlo quasi ad occhi chiusi. Poi vediamo Nicole Tovo in seconda posizione per la Torpado, poi Giovanna Trolli della Olimpia, subito dietro Paola Maniago, tornata a gareggiare. Ecco che si va con un po' di prudenza alle spalle della Maniago, c'è Alessandra Teso con la maglia di leader. Qualche problema per la Maniago che comunque prontamente recupera la sua mountain bike e consente anche agli altri di proseguire la gara. Ecco Alessandra Teso che quindi della team FPT riprende la corsa. È il momento di far volare le mountain bike, ci riesce, avete visto con grande impegno, Nicola Ferrazzo, leader provvisorio della corsa per il team Rudy Project Pedali di Marca, anche Mattia Setti in seconda posizione. Va tutta anche l'elite Marcello Pavarin, poi vediamo Nicola D'Alto della Cicli Olimpia, più prudente, lascia andare meno la sua mountain bike e intanto viaggia in quarta posizione all'inseguimento degli altri. Ancora vediamo che succede, tratto molto divertente per Andrea Deitos e per Simone Piccoli, leader degli Under 23, ancora Ivan Zulian per la categoria dei Master Elite. Il pubblico si è molto divertito a seguire questo tratto del percorso in cui gli atleti, vedete, potevano lasciare andare il loro mezzo. Grande spettacolo, un percorso riconosciuto all'unanimità, all'altezza anche di gare internazionali. Questo va detto proprio per la cronaca. Intanto altre maglie di leader del team del circuito del trofeo d'autunno, con quella di Luca Kogler, l'avete vista in precedenza, leader della classifica Master 3. Molte fotografie, molto divertimento in questo tratto in cui si vola. Dove vola appunto Nereo Canale, seguito dal compagno di colori Roberto Pesavento, siamo nella categoria dei Master 4, 45-49 anni. Vedete, molto spettacolari anche le nostre immagini. Gara donne va tutta Jessica Pellizzaro, al momento guida la gara femminile con grande determinazione. La vediamo ora risalire in questo tratto in salita con la sua chioma bionda e ha ragione delle altre atlete della gara donne. Al momento a inseguirla c'è Nicole Tovo, in discesa va un po' più prudente, la biker del team Torpado Victoria. Poi vedete, arrivano Alessandra Teso, leader della classifica femminile e con la divisa del team FPT, Giovanna Troldi della Cicli Olimpia all'inseguimento della Tovo. Siamo nel bosco con Marcello Pavarin, impegnato in grandi equilibrismi per tenere la sua Likugan in linea. Poi vedete Ferrazzo a inseguirlo, quindi ha dovuto cedergli provvisoriamente la testa della corsa. Questo è l'Emiliano Setti che insegue in terza posizione, poi Nicola D'Alto mantiene la quarta piazza, team Olimpia. In un tratto davvero molto bello Andrea Deitos, qualche indecisione per lui, poi riprende, deve guardarsi alle spalle. In seguito, tra gli altri, anche dal bravo Simone Piccoli, Under-23, che affronta, vedete, il tornante con piuttosto... Intanto Antonio Tasca, categoria Master 3, viaggia al comando per il team Bike Pro Action. Abbiamo appena visto Fabrizio Stefani, leader della gara dei Master 5, in seguito dal leader della classifica Paolo Banzella, categoria Master 6, mi correggo. Secondo giro, sempre al comando nella gara Elite, c'è Marcello Pavarin, che di lì a pochi metri da questa immagine sarà vittima di una caduta che gli farà perdere la testa della corsa. A vantaggio lo vedete di Nicolo Ferrazzo, ancora Mattia Setti, team Canossa Merida, poi Nicola D'Alto per la cicli Olimpia, vedete, frenate, grande controllo per tenersi in equilibrio su un fondo che, vedete, pende anche verso destra, riguardo alla guida dei nostri atleti. Andrea Deitos, cicli Olimpia, discesa ripidissima, impegnato ora lo junior Simone Segat, bravissimo, sempre tra i primi per il torpado Vittoria Bike, ricordo, atleti in massimo 18 anni, tra i quali appunto Segat e poi via gli altri con Piccoli. E ancora l'altro junior Simone Rasera, Dopla Treviso, anche lui nelle primissime posizioni, chiamano strada i più veloci, vedete, Dinka e altri atleti della categoria, sempre degli junior, De Bona e via andare. Con la maglia numero 53, intanto, è il leader della classifica Master Elite, Matteo Marcon, poi Mattia Donà, siamo sempre nella categoria Master Elite, già passato da un po' Ivan Zulian, che sta guidando la corsa in questa categoria, vedete la sequenza che vede impegnati davvero sul filo dei freni, della ruota magari bloccata per far andare la bici, Antonio Tasca, Bike Pro Action, vedete la sua ruota bloccata, guida tra i Master 3, qualche difficoltà, anche nel scegliere il rapporto giusto, vedete la ruota ferma e in frenata, e molto interessanti questi dettagli, con anche Pesavento, Roberto Pesavento, leader dei Master 4, oggi per il team Scavezzon Squadra Corsi, anche lui con la sua tecnica, un atleta anche piuttosto alto, e con le immagini appunto di Alca Media, videoproduzioni, possiamo vedere anche Moreno Bianco, leader dei Master 5, vedete anche lui con la sua tecnica, team Play Life Sports Bike, impegnati in questi tratti nel bosco, davvero non facili, molto selettivi, si fa fatica, c'è chi scende, va a piedi, anche il leader dei Master 6, Paolo Banzella, che oggi non può fare nulla contro Fabrizio Stefani. Bentornati alla settima Gnocco Bike, Selva di Trissino, seconda tappa del trofeo d'autunno, allora nella gara donne Jessica Pellizzaro viaggia sempre in testa, inseguita da Alessandra Teso del team FPT, siamo nel secondo giro dei tre previsti per la gara femminile, l'atteso ha superato in corso di questo secondo giro Nicole Tovo, l'atleta del team Torpado Victoria Bike. Ancora per la gara donne Giovanna Troldi in quarta posizione, cicli Olimpia, procede un po' prudente, ancora un giro quindi per le donne. Mentre eccoci tra gli Elite Master con l'atleta Ivan Zulian, che guida il comando, quattro giri per questa categoria, mentre questo è il bravissimo junior Simone Segat, mentre il leader taglia l'Elite, l'Under 23, Nicola Ferrazzo, con la sua B ammortizzata, sicuramente si trova molto meglio in questa discesa, quasi da Downhill, davanti a Mattia Setti, Nicola Dalto, vedete come si allunga per dare trazione anche carico posteriore, poi c'è Andrea Deitos, cicli Olimpia, molto prudente, quasi in surplus per lui questa discesa, gara donne, la Pellizzaro chiede strada, giustamente, è al comando della gara femminile, notate le acrobazie, poi l'atteso, l'attovo che tenta di non farsi scappare, l'esperta teso che l'ha superata nel corso di questo secondo giro, però deve scendere dalla bici, così come fa Giovanna Trolli, che deve anche lei controllare alle sue spalle la veneziana Santello, della ASD Calcroci, che sta tentando di recuperare la quarta posizione ai danni della Trolli. La prima degli junior è la signorina, qui la vedete, la diciottenne Emily Corazzin, Torpado Victoria Bike, guida al comando la gara junior femminile. Poi torniamo su Ivan Zulian, sempre primo tra i master elite, quattro giri per questa categoria, chiede strada, il veloce Zulian ha i danni di qualche doppiato, esibendosi in un fuorisella, intanto in testa alla gara open c'è sempre Nicolo Ferrazzo, per il team Rudy Project pedali di marca, ora impegnato in salita, lo insegue, bravissimo, l'Emiliano, Mattia Setti, team Canossa Merida, sono entrambi degli under 23. Poi vediamo Nicola D'Alto, elite per la ciclo Olimpia, un po' staccato, una ventina di secondi il suo ritardo da Mattia Setti, che viaggia, come dicevo, in seconda posizione. Andrea Deitos, fatica, stringe i denti, si alza sui pedali per portare la sua Olimpia in questo tratto di salita, davvero taglia gambe, ma non è ancora finita, come vedete, il percorso di Selva di Trissino è davvero molto interessante. Nel corso di questo quarto giro vediamo impegnato Mattia Setti in seconda posizione, mancano pochi chilometri alla conclusione di questa Gnocco Bike, settima edizione, Ivan Zulian sempre primo tra gli Elite Master, chiede strada, solo secondo Matteo Marcon che guida questa categoria, quella degli Elite Master, ancora Mattia Donà viaggia in terza posizione per la Giacobike. Poi ecco Antonio Tasca, primo nella categoria Master 3, Team Bike Pro Action, inseguito alle sue spalle da Andrea Rossi, primo dei Master 1 quest'oggi. Mauro Rampin, Team Rudy Project Pedali di Marca nella categoria Master 2, andiamo all'arrivo perché si va a concludere in questo momento la gara dei Master 5, tre giri per loro con la vittoria di Moreno Bianco, Play Life Sports Bike, davanti a Giuseppe Dal Grande, primo tra i Master 6, giunge Fabrizio Stefani, anche lui per il Team Rudy Project Pedali di Marca, mentre la gara open all'ora è a pannaggio di Nicolò Ferrazzo, Team Rudy Project Pedali di Marca, anche lui, 1 ora 4 minuti e 41. Al secondo posto Mattia Setti, Team Canossa Merida, staccato di un minuto e due secondi dal vincitore. Andiamo a vedere chi completa il podio, è Nicola Dalto, gruppo sportivo Cicli Olimpia, 1 ora 06 e 04, il tempo del biker trevigiano. Ecco i complimenti proprio di Dalto all'indirizzo di Ferrazzo, veramente una grande gara per lui. Primo dei Master Elite, Ivan Zulian, Bike Pro Action, 1 ora 7 minuti e 44, il suo tempo nei quattro giri. Nella gara donne arriva a braccia alzate l'atleta di casa Jessica Pellizzaro, non alza solo le braccia, alza anche la sua mountain bike, davvero per lei una grande soddisfazione vincere nella sua terra. Il suo team è il 4S Racing Team. Alessandra Teso nella gara donne si deve accontentare del secondo posto, sul terzo gradino del podio sale Nicol Tovo, mentre Antonio Tasca vince tra i Master 3, tra i Master 1 vince, come già forse annunciato, Andrea Rossi del team 21. Per i Master 4 la vittoria è andata a Pesavento, Roberto Pesavento del team Scavezzone, i Master 2, a Ivan Pintarelli del team BSR, con la soddisfazione sulla destra di Pesavento. Mentre nella categoria junior, tra i maschi ha vinto Simone Segat, tra le donne Emily Corazzini. Spazio ai giovani, ora nella seconda parte di questa sintesi filmata, dedicata alla settima Gnocco Bike. Sono pronti a partire gli allievi, li vedete schierati in questo momento, il leader della classifica è il friulano Costantino Cesca, con la maglia numero 404 per il primo anno, e per il secondo anno Andrea Dallapria. Per i ragazzi tre giri, anche se modificati, ora vedete scatenati, sono partiti gli esordienti, primo e secondo anno insieme con i leader che sono Luca Cet, Bettini Bike Team e Nicola Taffarella, Torpado, Victoria Bike. La terza partenza che seguiamo è quella delle allieve, l'età è quella 15-16 anni, la quarta, la vedete, è quella delle ragazze della categoria esordienti, che è appunto la fascia di età, è dai 13 ai 14 anni. Nella gara allievi si è distinto tra i biker del primo anno Alex Dacanal, che ha vinto la gara nella sua fascia di età, primo anno, mentre tra gli allievi il secondo anno ha vinto Stefano Coletto del Miane Bike Team. Ecco, li vedete impegnatissimi. Mentre, per quanto riguarda gli esordienti, la maglia di tricolore è quella di Zaccaria Toccoli, atleta trentino del Carraro Team, c'era anche lui, e ha vinto la gara tra gli esordienti primo anno, mentre tra gli esordienti del secondo anno ha vinto Nicola Taffarella. La chioma bionda che vedete è quella della allieva Anna Lirussi, del team Veloci Raptors, mentre questa è la prima della categoria ragazze esordienti, ovvero Mari Catovo. Anche per le giovanili è rimasto integro il salto, il punto che ha tirato sul percorso di Selva di Trissino tantissime persone, mentre gli organizzatori hanno risparmiato appunto agli atleti e alle atlete delle giovanili i tratti più duri, quelli che abbiamo visto magari nel bosco in single track, in discesa a ruote bloccate per mantenersi sulla mountain bike. Ecco, intanto spiccare, spicca la maglia tricolore del campione italiano di categoria esordienti, Zaccaria Toccoli e via via vedete tutti gli altri, anche le ragazze magari leggermente più prudenti, ma neanche tanto a giudicare dalla pedalata della brava Anna Lirussi, del team Veloci Raptors. Ecco, impegnato ora in discesa, avete visto Coletto e poi Alex Dacanal. Siamo nella categoria allievi, però termina la gara degli esordienti con la vittoria di Nicola Taffarel, Torpado-Victoria Bike, leader della classifica nella fascia secondo anno. Nel esordienti primo anno arriva primo proprio il campione italiano, Zaccaria Toccoli, Carraro team Trentino. Gara per quanto riguarda le ragazze allievi, appannaggio di Anna Lirussi, team Veloci Raptors. Festeggia, vedete, Stefano Coletto, primo tra gli allievi secondo anno del Periniane Bike Team. Per gli allievi primo anno il leader di questa tappa è Alex Dacanal del Bettini Bike Team. Parte il ristoro anche per ovviamente i ragazzi e le ragazze, intanto Luciano Martellozzo è con i protagonisti, sentiamolo. Amici di MTB Granfondo, eccoci ancora qua con i protagonisti di questa giornata, con questo sipario che ormai fa parte del programma curato, il programma di Alca Media. Armando De Franceschi, presidente del Castelgomberto, anche per lui quasi una prima esperienza qui a Selva di Trissin. Direi prima esperienza molto positiva. Il tempo ci ha aiutato perché il percorso era, e poi lo sentiremo anche dalla voce dei protagonisti, il percorso era molto molto tecnico. Se fosse stato bagnato sarebbe stato un problema. Detto questo direi che è andato tutto benissimo. L'organizzazione è da migliorare. Noi come primo anno ci siamo impegnati per quello che potevamo fare. Abbiamo avuto delle indicazioni per poter far meglio l'anno prossimo. E direi che l'impegno nostro è di far meglio. Il ringraziamento maggiore va agli amici della Festa del Gnocco e a Serreno Pelizzaro. Bene, allora con il protagonista sentiamo subito a caldo il percorso. Tanto criticato, per tanti un po' un problema. Ma sentiamo Nicolò che mi sembra che oltre ad aver vinto ci sia anche divertito. Com'è andata oggi Nicolò? Il percorso era bello tosto, come piace a me. Non necessariamente tecnico. Bello, divertente, tutto da guidare. Bello duro in salita. Oggi l'ho vista faticata. Vuoi il successo ieri alla 6 ore dove è stata sicuramente la prima donna. Anche oggi è stata qui presente e ha onorato naturalmente i colori della ciclo Olimpia che ci sostiene ormai al nostro circuito autunnale. Com'è andata? Raccontaci le tue impressioni su questo percorso. Beh, hai già anticipato quel che volevo dire io. Ero finita. Ieri sì, sicuramente ho dato molto. Però il problema mio è che non riesco ad allenarmi. Quindi la mancanza di preparazione dice la sua parte. Però nonostante venerdì fossi quasi convinta di ritirarmi prima di partire visto la particolarità tecnica del percorso che per me era quasi impossibile da affrontare oggi sono rimasta veramente molto soddisfatta perché mi sono sorpresa da sola sono riuscita ad affrontare per il 90% del percorso tutto in bici scendendo solo in un paio di scese. Quindi per me è già questo un traguardo. Passiamo alla protagonista di casa. Era attesa, era aspettata, è stata applaudita e la nostra beniamina, uso questo termine perché oggi qui era in casa. Facile la vittoria? Eh, insomma, mica tanto perché anche come Giovanna ieri ho partecipato alla sei ora e quindi sono arrivata qua oggi abbastanza provata. Tuttavia ho cercato subito di partire bene, di impostare il mio ritmo e nelle discese poi ho controllato, ho gestito tutta la gara, è andata nel migliore dei modi. Sono contenta di farglielo vedere a mio papà perché da fuori alla sei ora di ieri era convinto che non avrei mai vinto e invece ce l'ho fatta, quindi ecco è andato bene così. Velocemente, un voto, un commento da una persona esperta, il nostro coordinatore regionale del Foristà, Beppe Clementi. Così, una battuta, com'è andato, cosa ti è passo questo tanto discorso percorso? Niente, questo è un classico percorso da cross country, un vero cross country, pertanto non si può dire niente. Il percorso è bello, è un continuo variare di ritmo, discese leggermente tecnici, però sono fattibili, diciamo, dai, non osaniamo questo percorso, pertanto io direi un bel otto meritato, è logico, si può sempre migliorare qualcosa, ma il percorso è veramente bello. Il tempo ha aiutato perché se ci fosse stato un po' di pioggia sarebbe stata una difficoltà non indifferente, però veramente merita, veramente un percorso che merita. Allora, con questo noi abbiamo concluso l'appuntamento domenica prossima a Crespignaga di Maser, dove sono state scritte le pagine più belle della storia del Foristrada. Avremo anche una news per quanto riguarda le categorie, aggiungiamo anche la G6 in fase sperimentale, questo è già un bel passo avanti, è un successo, chiamiamolo così, da parte di tutta la struttura regionale del Foristrada. di cui noi puntiamo e lo dimostriamo con i giovani e la promozione. Questo è tutto, a domenica prossima. Tornano gli Ima a Crespign, domenica 15 settembre, con la gara di Camerano, in provincia di Ancona, la Rampiconero, poi a Sasso Marconi, Bologna, c'è la Sasso MTB Race, a Velo Veronese, in provincia di Verona, la Lessinia Legend. Appuntamenti quindi in quasi tutta l'Italia per gareggiare in mountain bike. È tutto per questa settimana, un saluto da Guido Barbato, appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.